Ritorniamo alla grande con gli eventi in città. È l'esclamazione pronunciata dal sindaco e assessore questa mattina durante la presentazione del calendario manifestazioni a Fano. Eventi culturali, musicali, folcloristici e sportivi per un'estate ricca di appuntamenti per grandi e piccoli grazie alla collaborazione di tante associazioni ed enti. Si parte da giugno il 4 e il 5 con il carnevale dedicato ai bambini, il mercoledì degli artisti fino ad agosto e Passaggi Festival, il festival della saggistica. Dieci anni di passaggi, un'associazione che veramente sta facendo un percorso importantissimo con tante persone che vi si dedicano, una manifestazione che è cresciuta tantissimo e che esprime veramente anche una promozione nazionale ed internazionale per la nostra città. Luglio sarà contraddistinto dal palio delle contrade in centro storico ma anche di tanta musica con la trentesima edizione di Fano Jazz by the Sea, il festival della fortuna, la rocca malatestiana, per continuare poi con il grande evento della Fano dei Cesari dal 14 al 17 luglio. Vogliamo riportare la corsa delle bicche già da questa edizione visto che avevamo programmato una manifestazione più piccola a causa della pandemia ma credo che le condizioni ci siano per ripensare la manifestazione come era già nel 2018. Poi tutti gli appuntamenti storici nei quartieri, la festa della Cresciamatta a Tre Ponti, Tombaccia con la Festa del Fritto, Musica Mare a Ponte Sasso e la Notte dei Desideri a Torrette. Il mese di agosto aprirà con la tradizionale Festa del Mare, l'11 invece, il grande ritorno di In Gir per Fan, il tour enogastronomico per le vie della città, a Bellocchi dal 18 al 21 il Paese dei Balocchi, mentre la Fiera di San Bartolomeo in programma dal 24 al 26 agosto vedrà una nuova location. Il clou dell'evento sarà nei giorni di ferragosto con il Carnevale estivo e i carri allegorici. Quest'anno farà una grande promozione con un Carnevale estivo per poi l'edizione del 2023 che tornerà alla grande. Un programma importante realizzato veramente grazie a una città creativa, laboriosa, che si sta rimettendo in moto e che ovviamente tornerà anche alla grande nel 2023 con il Carnevale di Fano. A chiudere il calendario estivo sarà dal 9 all'11 settembre il Brodetto Feste sul Lungomare del Lido e la Festa dei Fiori il 23 settembre. Tutto il programma aggiornato fino a dicembre è consultabile sul sito visitfano.app dove sarà dedicata anche una sezione per i bambini e le famiglie. Sarà un'edizione aperta a tutti, partecipata, dove non metteremo limiti, ritornano tutte le iniziative, quindi con il massimo splendore. Un programma veramente molto ricco, ma mi viene da dire che questo cammina anche con altre progettualità che renderanno ancora più grande negli anni successivi. Infatti ho voluto dire che questa vuole essere un'anteprima di quella che sarà ancora più scoppettante nel prossimo anno del 2023.